Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera a tutti, io sono Jul e oggi siamo tornati su Fate Grand Order. Babilonia, l'ultima Singularity, ha finalmente debuttato in gioco, siamo a un passo dal gran finale che sarà Solomon e insieme alla Singularity è arrivato anche il primissimo banner dedicato a questa medesima. Banner capitanato dai due simboli di Babilonia, ovvero Enkidu e Jill Caster. E' anche presente Medusa Lily, che però purtroppo l'immagine parla abbastanza chiaro in questo banner. Diciamo che Medusa Lily, rispetto a Jill Caster e rispetto anche a molti altri 4 stelle che abbiamo già in gioco, non è un buon 4 stelle. Mi dispiace perché mi a Medusa piace, ma non sono un'appassionata di Lily, non mi piace la versione Lily e soprattutto io ho tantissimi lancer, anche molto buoni. Lei non rientra nella categoria del molto buono, purtroppo. Al contrario Jill Caster è un ottimo caster, se non il miglior caster a 4 stelle attualmente disponibile. E poi c'è Enkidu il 5 stelle, che è un lancer abbastanza interessante, è un tankone, è un tankone anti personaggi divini, anti servanti divini. E esteticamente mi piace molto, è molto affascinante. Non mi serve il lancer, lo stesso discorso vale anche per lui, ma lui come personaggio comunque mi interessa. Non ho ancora giocato Babilonia, quindi non so esattamente che ruolo avrà lì nella storia, però mi piacerebbe trovarlo. E poi c'è anche Demonic Bodhisattva, che è la CEA 5 stelle di questo banner, che è esageratamente forte. Ci permette di partire, di tirare il primo Nobel Phantasm della partita con un overcharge di due già, diciamo, intrinseca. Per cui assolutamente le cose che più cerco da questo banner sono la CEA 5 stelle e Jill Caster. Cosa investirò? Non tantissimo, perché comunque queste cosine mi interessano, ma non in maniera incredibile. Per cui credo che tirerò i ticket e farò una, massimo due, molti. Ma detto questo direi che possiamo iniziare e vediamo se avrò la stessa fortuna che ho avuto nel banner di Shuten, che è stata una cosa scandalosa e trovate il video sul mio canale. Detto questo, possiamo iniziare. Iniziamo dai ticket e vediamo un po' che cosa ci riservano. Che cosa ci riservano? Vediamo un po' come va questa Babilonia. Loading, loading mi piace molto, il loading mi piace sempre molto. Vediamo un po', potrebbe essere anche la nuova CEA 3 stelle. E invece è un orologio a caso che già avevo. Il loading non sempre è attendibile, stiamo sempre molto attenti. Io in particolare credo molto nel loading, ma ammetto di aver trovato roba anche senza loading così lunghi come di non aver trovato roba come avete appena visto con loading lunghi. Qui c'è questa maledettissima CE con l'uccello che odio. Odio questa CE, la odio veramente dal profondo del cuore perché la becco sempre. Andiamo avanti di nuovo, no loading. Però c'è stato un piccolo lag, quindi probabilmente un servant. Un piccolo lag è il servant. Un lancer. Non credo flippi senza loading ed è il caso Romolo. Romolo non è la tua singularity, quella di adesso per cui ti puoi accomodare all'uscita. Andiamo avanti. Andiamo avanti con i ticket. Ho tirato dei ticket spaventosi da shooten per cui ribadisco sono molto calma. Non succede niente se non trovo niente. Va bene, però ci voglio provare. Arcerino. Arcerino David. I tre stelle li ho tutti completati a parte Serenity perché purtroppo ho fatto un grossissimo errore. Ho bruciato la mia Serenity NP5 al posto di una Serenity in più che avevo trovato. Lo so, è stata un'idiozia. Purtroppo è successo per cui devo ricominciare a fare Serenity. Adesso ce l'ho NP1. Qui c'è un altro lancer. Flip A. Ed è Q. Beh, diciamo che a livello di lancer siamo partiti carichi. Siamo partiti molto carichi. Che adesso magari iniziassero ad arrivare anche le dorate. Possibilmente Gillone. Che Jill Caster ci piace sempre. Fermo restando che è un Servant permanente Jill Caster. In questo banner ci sono solo Servant permanenti. Per cui non vi preoccupate se non li trovate. Avremo modo di essere spucati da loro in futuro. E soprattutto Jill Caster è uno dei quattro stelle ottenibili tramite il ticket che ti permette di avere un quattro stelle assicurato. Quando tornerà e avrà la pool presente in Giappone si potrà tranquillamente prendere lui. Per cui no problem. Qui c'è un Caster. Che è Mephistophel. Bello. Con quelle calze che tutte le volte mi tolgono il respiro. E andiamo con l'ultimo ticket. L'ultimo ticket c'è finalmente il loading. Cortino. Ma era un loading. Dai. Vediamo un po' che cosa c'è. È una CE. Ed è... Beh, B.E. Elegante ovviamente. Vabbè, le CE a quattro stelle sono tutte un po' scarsine. Soprattutto per il punto in cui sono io adesso. Ma vando alle ciance e facciamo la prima multi. E vediamo un po' che cosa ci esce. Questi ticket sono stati sufficienti. Sono stati sufficienti perché comunque ho trovato la dorata. L'importante è sempre andare a dorata. Super loading lunghissimo infinito. Super hyper mega loading. Molto bene. Sempre un po' in segno. Si parte con l'elisir dell'amore. Ne ho anche troppi di questi. Le CE a tre stelle sono sempre... Oh, velocissimo. Mi sa che è un altro elisir dell'amore. No, è il leoncino. Mi viene sempre da chiamarlo il leoncino di Arturia. Perché ho presente che lei è associata ai leoni. Non sto a spoilerare cose particolari. Rungard. Questa mi sa che è la nuova quattro stelle. Sì, è la nuova quattro stelle. È la nuova quattro stelle. Ok. Oh, c'è dell'oro, signori. Fammi vedere il caster. Voglio andare a Babilonia. Fammi vedere il caster. Fammelo vedere. Fammelo vedere. Perfetto. Eh, lo so. Ragazzi, scusatemi. Sono fortunatissima in questo periodo. E abbiamo Jill Caster. Banner chiuso, ragazzi. Banner chiuso. Unica multi che farò. Va bene così. Grande Jill. Grande Jill. Gran colpo. E ora, beh, può uscire letteralmente qualsiasi cosa. Per me il banner è chiuso. Che bello. Grande Jill. Grande. Io adoro Jill Caster. Lo trovo disegnato divinamente. Soprattutto rispetto all'Archer. Io non apprezzo per niente l'Archer. Oh! Anche, anche Devilish Bodhisattva. Mamma mia. Questa pull è esagerata. Manca solo in Kidu. Manca solo in Kidu, ragazzi. Vabbè. Troppa fortuna. Troppa, troppa, troppa fortuna. Sono stracontenta. Comunque sì. Adoro Jill Caster. Oh, questa è nuova. Lo trovo disegnato benissimo. E mi piace molto di più dell'Archer. Che invece non mi piace come disegnato. A livello di personaggi, non mi dispiace nemmeno l'Archer. Però a livello di disegno Jill Caster è proprio fiero. E poi sono molto contenta di averlo trovato. Perché così posso usare il mio ticket per qualcun altro. In particolare vorrei aumentare l'NP di Baraki. Perché i Baraki la vorrei portare a NP5. E per ora c'è l'NP1. Mamma mia che pull. Jill Caster più Devilish Bodhisattva. Ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Di cosa stiamo parlando? La pull perfetta. Veramente la pull perfetta. E in questo banner preferivo la CA5 rispetto a Enkidu. Per cui... La perfezione. Sono stra-iper-mega-super-contenta. E tra l'altro ho schivato Medusalini. Non me ne volere Medusa. Però... Guardate che pull. Tutto. C'è tutto quello che volevo. Perfetto. Jill Caster e Devilish Bodhisattva. Che tra l'altro ho visto che si chiama Devilish. Me la ricordavo come Demonic. In ogni caso sentiamo le frasi del nostro meraviglioso Jill. Caster Gilgamesh. E mi accoglio così, ragazzi. Vedete? Mi vuole già bene. Mi vuole già bene Jill. Evviva! Sapete cos'è stato catalizzarlo? È stato il fatto che io ho Jillino piccolino greilato. Con Jillino piccolino greilato non ti può non uscire. Gilgamesh. Tra l'altro voglio anche vedere cosa fa questa C qui. Quella A4. Che invece non me lo ricordo. Cosa fai tu? Il critical star Gatter Raid non è male. Non è così male. Ma la bomba è questa, ragazzi. Ve la faccio vedere. Ve la faccio vedere. Se pullate in questo banner cercate questa. Cioè guardate sta bomba. Guardate sta bomba. Vi aumenta l'MP Charge di due livelli la prima volta che si usa l'NP. E si parte col 50% di NP. Vabbè. Questa più Arciuria. Ci divertiamo un sacco perché tiriamo due NP tipo in due turni uno dietro l'altro. Per cui la volevo. Sono stracontenta. E questo è tutto miei cari. Perdonatemi. Non ci sarà un'altra. Non ci sarà un'altra pull. Perché non ho bisogno di fare un'altra multi. Va bene così. Mi spiace per Enkidu che è molto carino. Ma. Cioè rimane. Non ho fretta. Mentre Medusa Lily come già detto poteva stare lì. Jilcaster ti ringrazio. Cara Cie ti ringrazio. Io cari vi auguro tanta fortuna. Se anche voi pullerete da questo banner. Da Jil è tutto. E noi ci vediamo con i prossimi video di Grand Order. Chissà che non esca qualche videuzzo dedicato a Babilonia. Dai. Chissà. Vedremo se ci sarà qualche boss particolarmente interessante. Ciao. 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 Grazie.